Edwars, ho una modalità dove si può giocare da soli o in compagnia Ma io giustamente, come persona sana di mente, ho deciso di provare a mettere insieme questi due fatti e faccio un video sopra Quindi sarò da sola nel mio team Ce la farò vincere tutte le partite? Guarda per scoprirlo Oggi sarò in compagnia con questi bambini Vediamo come reagiscono quando scrivo Ragazze Che ci posso fare? Ok Diamonds Totalmente non è un riferimento al famoso youtuber Hit Carpi Totalmente Muori, rosso Prendi knockback, fratmo, è giustamente incompreso Ciao Salvini Ha lanciato Salvini No, allora, se i rossi triarderanno il contro di me Che sono da solo Allora, parliamo, parliamo Andiamoci in una calmatina Cadi Oh Uno è morto Scherzavo È impossibile vincere, giuro, è impossibile No Perché sono da me i verdi? Maleducato, maleducato Cos'è? Via, via, via Tutti, tutti qua Cosa? Letteramente L'intero lobby da me L'intero lobby da me Cos'è? Cos'è sta roba? Non è giusto Vado dai verdi Sacrificio il mio letto C'è sharpness Eh, perché c'è sharpness? Siamo uno... Come l'ho schifato coi Salvini Mi nascondo qua i diamanti Sarebbe tutto scappare anziché venire qua Dannazione Senti, me la rischio Non mi interessa Lancia Salvini Basta Salvini C'è Basta Salvini Cos'era? Riproviamoci Genshin Impact È Gioco Bello Va bene Ok No, verdi No, 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 no Questo qua c'ha tutto Cos'è? Fattate giallo 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 Perché? Vieni da me Scusa? Eh, non prendi no Cos'è? Ma cos'è sta roba Che tutti vogliono me Perché? Lasciatemi in pace Che vi ho fatto di male Perché vuoi me poi te? Giallo No, basta Vieni da Rossi Sono in tre Io sono da solo Cos'è sta in giustizia? Via Eh, che Perché ci hanno sharpness? No, no No Aia Vediamo come reagiscono Se scrivo Fortnite È un bel gioco Ok Va bene Ho capito Ok Cadi tu Uh 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 Letto gratis Final gratis Final No Muori Sorry Smeraldi Perché se no È infattibile Penso che due passino Faccio un bridge egg E jump boost Magari un salvini anche Che ci sta? No, non ci credo Che è così facile Questa partita No, salvini Per un pero Letto No Salvini Fai il tuo lavoro Vai così salvini Ok, vediamo dove stanno i rossi Ci lascia la win No Oi No, non ti usare Ha funzionato Mi ha fatto una croce Ma Eh, sorry Sorry Addio Era facile Eh? Eh? Oh, ho vinto Vediamo come reagiscono Se scrivo Amo Roblox Niente Ok Calmo Stai calmo Stai calmo Stai calmo Stai calmo Stai calmo Stai calmo E che cavolo Muori Dai morite Uno è morto Un altro è morto No Oh Ma i plus stanno venendo lasciati anche da Verdi Damn Damn E mi prendo i diamanti Mentre loro vengono lasciati da loro No C'è uno full Full legna No Oh Verde Passo Assurdo Assurdo Ora però devo andare dal verde Quanti bloccherano? Non erano otto Prende le smeraldi Non vado a lasciare Oh no Siamo rimasti solo noi Oh na 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 No Ok Uno è morto Ok Letto è andato Alex A meno tu Muori C'ha spada di ferro Non mi piace Come è che non sono morto C'ha l'arco Non ci credo Oh cavolo Mi piacciono i fanboy No Mori No Oh no Hanno perso il letto dai gialli Eh No Sono venendo due Perché Mi servono due persone Per venire a lasciarmi Mi servono due persone Per lasciarmi Eh sì alla fine I cercatori di baseball Sono forti Sei che è polato addirittura Vabbè Io lo butto giù nel void Sono pazzo Questa cosa ho fatto da giallo io invece I gialli stanno dominando sta partita Hanno fatto tutti loro eletti Ovviamente mi ha letto parte Eh 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 Giallo Eh eh Ok Vediamo come reagiscono Se dico Mi piacciono I furri Oh Prezzo spaventato Da chi vado qua Eeeh Dai blu penso Ci provo No Ok andiamo Sono stato colpito Da dietro Cadi Ma Ok Allora Wow c'è una TNT Cosa farò mai ora che c'è la TNT Non ce la posso fare Wow Ho fatto il letto Non ci credo Per una final voglio Sì ho fatto la final Non ci credo che ci sto riuscendo Piano piano Ma ci sto riuscendo Ma No via Regola numero uno Mai lasciare senza un letto Ok Cos'era Faccio prima non commentare Ora Devo fare fuori questi verdi Vediamo anche il letto Ciano Mamma mia quanto è grande Vabbè Non grande quanto Tomas Dai lasciato Salvini Nice Ah vero Una trappola Ok Muori Uno Due Non mi toccherete mai Uno l'ho ucciso Addirittura Eh Questo non è morto Non muore Questo sta scappando Ma non c'è il letto Perché mi vuoi uccidere Devi scappare te Vabbè che Ho poca vita però Proprio vuole il mio sangue questo Mamma mia Calmati Calmati Non devi uccidermi Come Sono diventato pazzo Ho attivato l'ultra istinto Oh ma che scusa E se vi è piaciuto questo video Iscriviti Lasciate il like Che aiuta Per la parte 2 Raggiungiamo i 500 like Ci vediamo Addio Ma Ma Oh